ciao a tutti io sono claudio vi do il benvenuto nel mio canale alla fine del video non dimenticate di iscrivervi per non perdere le novità visto che devo caricare ancora un sacco di cose e poi c'è tanto bisogno il mio primo canale è stato chiuso non so ancora per quale motivo ma il lavoro di quattro anni è andato in fumo quando vedo che ora solo 115 iscritti mi viene la depressione caroppante progressiva e picolare quindi confido nel vostro aiuto lasciate un like per gratificare il mio lavoro ed ora seguita attentamente il tutorial e le mie indicazioni sarà capitata anche a voi di non riuscire ad installare un programma su windows 10 questo perché il sistema operativo contiene una funzionalità nascosta noi dobbiamo solamente attivarla quindi adesso entriamo nel pannello di controllo pannello di controllo certo sto aprendo pannello di controllo ma che gentile perfetto ora andiamo su programmi e funzionalità in alto a sinistra attivazione o disattivazione delle funzionalità windows e ci cliccate su aspettate qualche secondo perfetto quando vedete un quadratino nero vuol dire che la funzionalità è attivata solamente in parte allora con il segno più estendiamo il menu poi poi fleghiamo qui poi estendiamo ancora il menu e fleghiamo questi quattro componenti poi clicchiamo su ok ok ora per rendere effettive le richieste dobbiamo riavviare il computer quando il pc è spento installerà degli aggiornamenti aspettate che finisca ora chiuderò il programma cattura schermo perché altrimenti mi sgredola tutto il tutta la registrazione che ho fatto fino adesso quindi noi ci vediamo tra un nano secondo finalmente siamo tornati io e il mio pc siamo di nuovo qua il computer per installare le nuove funzionalità ci ha impiegato una settimana e 17 ore non è vero so io che sono un po scemo tempo stimato due minuti e ora potete installare qualsiasi programma senza senza avere problemi se avete dei dubbi non esitate a scrivere nei commenti rispondo a tutti in tutte le lingue per video bleppa due da claudia è tutto ora